L'artista esistenzialista vergognoso, io credo che sia vergognoso l'atteggiamento che hanno avuto alcuni, non so come definirli, ideologi anarchici non lo so nei confronti della statua di Indro Montanelli nei giardini a lui dedicati via palestra a Milano. Adesso senza voler entrare nel merito, perché dice che questa statua è già stata, diciamo, in realtà di vernice, credo 2009, da alcune femministe o quant'altro. Qui non è certamente un fatto di schierarsi da un lato o dall'altro, perché chiaramente può essere o non essere piacevole a vent'anni, diciamo, comprare una schiava di tre a 10-12 anni e farla una propria schiava per la vita e vantarsene. Ma io faccio delle valutazioni differenti su Indro Montanelli, sversante, spigoloso, conservatore, liberale, scrittore, di spessore. Quindi credo che quella statua sia una dedica al personaggio giornalistico che ha raccontato gli anni del fascismo, la guerra e quant'altro. Ripeto, io non condivido le modalità. Ma si può dire tutto il controllo di tutto, nei modi dovuti, e magari le battaglie nelle opportune sedi le si fanno quando dati personaggi sono esistenti, vivi. Non so che senso possa avere fare una guerriglia a una persona che non c'è più, imbrattando una statua con atti che tutto hanno a che vedere, ma sono atti che io non considero, considero deplorevoli perché sono degli atti di inciviltà. Questo è quello che a me onestamente non piace. Così come non piace quello che sta accadendo in America, dove si vanno a imbrattare, a buttare giù le statue, colombe che discorrendo. Quindi credo che ci possano essere anche delle problematiche, a parte che le problematiche sono diversificate, secondo me, Freud, da quello che può riguardare una statua di Colombo o una statua di un presidente americano o di un giornalista italiano, cose differenti. Però poi ribadisco, credo che quello che a me non piacciono sono le modalità di esecuzioni, credo che si possa essere ideologi, si possa essere degli espressionisti, secondo modalità diverse, anche un artista e un ideologo e un espressionista portano avanti dei concetti nei modi dovuti. Questa è la mia idea personale, l'artista esistenzialista. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.